Il film IPAC 555 possiede caratteristiche meccaniche uniche che permettono di ridurre lo spessore del film utilizzato senza compromessi sulla tenuta e stabilità del carico. IPAC 555 è un film rigido ad elevata forza di serraggio con spessore molto sottile a partire da 7 micron. Può essere prodotto in versione Netrol senza mandrino in cartone oppure in versione Double Age con bordi rinforzati. La stabilità del pallet è una condizione imprescindibile per la sicurezza del carico, per la produttività e l'economia di un'azienda. Grazie a tutti.